Musica Oh ho ho, ma sono tutti È lui? Ah, è lui Il nostro corso gratuito non so, è la prima volta che vi capita di vedere questo salto avete visto che il ragazzo è atterrato e partito in switch perciò come diceva Maxi in retromarcia e gli è atterrato in retromarcia non era in core, lo sentirete parlare poi quando parleremo di trick, questa posizione fuori asse ma era in misti, in misti che è un'altra posizione che i ranger fanno molto spesso con il discorso del twist team visto che l'Italia è in finale un altro Riders anzi un secondo per fare un attimino il punto della situazione per le discipline freestyle il signore Enzo Sima non è l'opera un secondo più di una volta un secondo più di una gara Grazie a tutti.